Il peso blocca ombre e il clona ombre! Ah? Dici davvero? Dico davvero? Ormai sono stufo dei soliti aeroplani nei radiocomandati Che noia! Sei fortunato! Mi lasci giocare uno di questi giorni? Magari uno di questi giorni! Oh no, c'è già! Scusa, ma non ho voglia di vederlo! Ciao! Arrivederci! Arrivederci! Soneo, sta a sentire! Ma come? Sono già andato! Ci picchia, non capisco perché ma è tutto il giorno che mi evita! Ah, è nobita, è nobita! Aspetta un attimo! Ascoltami! Che cosa fai oggi pomeriggio? Via, via! Sono a casa! Oggi farò il volo di inaugurazione del mio aeroplano Fossi qui con Jean, lui mi direbbe di sicuro Ehi, forte quell'aereo radiocomandato! Sai che facciamo? Ci gioco io! Scusa, è mio e non ho ancora provato a farlo volare Ho detto che ci voglio giocare io! Ma per fortuna Jean non è qui Posso giocare con il mio nuovo aereo in tutta tranquillità Molto bene, siamo pronti al decollo Via! Evviva! 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 Che primo volo fantastico! È stupendo! Ehi, ma quell'aereo è stupendo! Sono io! Non l'avevo mai visto! Da quando ce l'hai? È nuovo, ce l'ho da ieri sera! Me l'ha portato mio cugino! Cosa? Ancora tuo cugino? Che fortunato! Sì, io ho dei parenti meravigliosi e tu invece no! Mi fa una rabbia! So già che cosa dirà fra poco! Ehi, ti piacerebbe provare a farlo volare? Ah, che bello! Posso comandarlo io! Sì, certo! Quando sarà rotto! Me lo dirà, lo so! Ascoltano, Vita! Se vuoi provare a farlo volare? Appena se ne rotto te lo darò! E ora virata a sinistra! Oh, che rabbia! Bene! Nobita sarà a caso fra poco! Eccolo qui, è arrivato! Teremo! Ascoltati, prego! Sì, lo so! Vorresti avere un monoplano telecomandato! È questo che vuoi dirmi? Oh? Sì, è vero! Ma tu come lo sai? Beh, meglio così non devo spiegartelo! Steso blocca ombre e clona ombre! Eh, no, aspetta! Quello che volevo in realtà era un'altra cosa! Tranquillo, fidati di me! Doraemon! Doraemon! Il monoplano di Suneo dovrebbe venire da questa parte fra poco! Mettiamoci laggiù, è un posto perfetto! Ecco, su questo tetto va benissimo, lo prenderemo! Ma per prenderlo sarebbe stato meglio restare lassù! Ecco! Ma ci piecchia per un pelo! Doraemon, che cosa fai? Non capisco! Sto per versare un po' del clona ombre sull'ombra del monoplano! Ed ecco fatto, Nobita! Un nuovo aeroplano è tutto per te! Grazie, ma è tutto nero! Non importa, il colore non influisce sulle sue prestazioni! Però mi serve qualcosa con cui comandarlo! Sì, non preoccuparti, lascia fuori a me! Ciao, Suneo, come va? Oh no, neanche tu ci puoi giocare! D'accordo! Che cosa? Ho capito bene, è il raggiocomando! Sì! Così? Ma che cosa stai facendo, scusa? Ah, ti dispiace spostarti adesso? No, questa storia non mi piace! Ah no, così va a sbattere! E adesso possiamo comandare il monoplano! Sul serio? Posso far volare l'aereo con quello? Sì, adesso ti faccio vedere io! Ehi, ti sto muovendo! Perfetto, e adesso sta a guardare! Ti prego, lasciamelo pilotare! Attento che è difficile da manovrare! Non parla, è meglio provare! Dammo, dammo! Ok! Ecco, hai visto? Ascolti, scusa, Suneo, e mira! Che faccio? Che faccio? Presto, novità! Usa la leva! Su, muovila! No, non così! Devi fare quello che ti dico! Oh, sta andando contro l'albero! Hai visto? Ha attraversato l'albero! Ma certo, è naturale, perché in realtà è soltanto un'ombra! Urrà! Tanto è inutile spiegarglielo! Bene, direi che come volo di inaugurazione può bastare! Sono contento di non aver detto a John del Molina augurale! Se l'avessi fatto avrebbe monopolizzato il radiocomando e non mi avrebbe lasciato giocare neanche per un minuto! È sempre molto prepotente con gli altri! Invece oggi qui da solo mi sono proprio divertito! Che bella soddisfazione! Ora lo rimetto nella scatola e torno a casa! Ecco... Beh, non intendo dirglielo neppure domani! Come va, su, Neo? Non c'è niente in questa scatola! Non c'è niente di interessante, credimi! Non è che per caso hai sentito quello che stavo dicendo prima? Certo che ho sentito! Oh no, sono sfacciato! Su, Neo, dimmi che te ne pare del mio modo di pilotare? Ahahahah! E quello che cos'è? Ha esattamente la stessa forma, solo che è nero! Ah, mi manda in confusione perché non si toglie di mezzo! Oh no, così su Neo mi viene all'osso! Ma che succede? È già lasciare il telecomando! Hai visto? Continua a seguirmi! Oh, cipicchia, che tormento! Ti prenderò, aereo nero! Stanne certo! Grazie di avermi lasciato giocare, Su, Neo! Ora devo andare! Ti puoi riprendere l'aereo in quella casa? Eh, ma no, scusa! Non puoi lasciarmi nei pasticchi! Il mio povero aereo nuovo! Hai visto? Questa volta Gianna è stato veramente imperdonabile! Hai ragione, mi dispiace molto per il povero Su, Neo! Già, questa volta sei stato proprio cattivo! Su, Neo, va a scusarti per il vetro rotto e recupera l'aereo! Figurati, quelli non ci restituiscono mai neanche le palline! Doraemon, non posso usare quel peso che avevi prima! Coraggio, Su, Neo! Adesso alzati, per favore! Perfetto, allontanati un po'! Grazie, e ora versiamo questo liquido! Oh, ma questa è la mia ombra! Ciao, ombra di Su, Neo! Vorrei chiederti un favore! La vedi quella finestra rotta? Ti spiacerebbe andare a riprendere l'aeroplanino che è volato in quella casa? Oh! Ma è una cosa pazzesca! Un'ombra passa dappertutto, anche attraverso i muri! Ehi, tu chi sei? Anzi, che cosa sei? Fermo! Torna qui! Torna qui! Ah, benissimo! Quello è il mio aereo! Ho fatto, grazie del favore! Sei contento adesso, Su, Neo? Sì! Comunque voglio pagare la riparazione di quel vetro! Sì, però vai tu a pagare, non mandarci la tua ombra! Doraemon! Perché non proviamo a dare vita a delle ombre di animali, di automobili e di altre cose? Buona idea, possiamo provarci! Ehi, un momento, aspettatemi! Ah, per me va bene, sì! Anche se non capisco che cosa hai intenzione di farne! Molte grazie, te le restituisco fra poco! Sì! Eccolo! 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 Adesso non mi resta che versare liquido! Ah, perfetto! Una fantastica ombra di John! E adesso vieni subito con me a giocare! Coraggio, siediti qui! E adesso me la paghi! Vieni qui! Finalmente mi posso vendicare delle bozze che mi dai! Ti, ti, prendi! Dove vai? Torna qui, John! Ma che cosa succede? Non capisco, come vai? Mi sento brutta e dappertutto! Prendi questa e anche questa! Finalmente posso vendicarmi! Ma che fastidio terribile! Che cosa sarà? Non capisco! E ho tante da farti pagare! Ma le sto lunghissime! Dov'è? Eccolo! Ti ho ritrovato! Ma come? Allora sei il vero John! Allora, eri giù, Suneo! Ora ti lascio stare! Fermati! Fermati, Suneo! Adesso te lo faccio vedere! Ti rompo! Suneo! Aiuto! Fermati! 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 Prego! No, ti spiego già! E Suneo! Ehi, Suneo! L'ombra è qui! Ho colpito il vero John credendo che fosse la sua ombra! Suneo! Questa non te la perdono! Vieni qui! Aiuto! Oh no! Ti prego! Oh no! Oh no! Grazie a tutti.